E parliamo adesso di una vicenda particolare, infatti c'è stata una conferenza stampa della Casa di Dice Cento Autori che ha citato in giudizio lo scrittore Maurizio De Giovanni e Larizzoli in riferimento alla pubblicazione del libro Il resto della settimana, in particolare da Narita De Feo. Lo scrittore Maurizio De Giovanni e Larizzoli citati in giudizio per violazione del diritto d'autore inerente alla pubblicazione dei racconti contenuti nel libro Il resto della settimana. Lo scrittore De Giovanni, sotto contratto dal 2009 con la Cento Autori per 10 anni, si era impegnato a fornire 6 racconti a 20 progetto vicende più o meno note legate al Napoli Calcio in 6 volumetti. Secondo la Casa Editrice De Giovanni avrebbe violato un obbligo di contratto. La Casa Editrice Cento Autori sottolinea come i racconti contenuti nel libro Le Storie Azzurre, edito dalla stessa nel 2010, vede anche nell'indice, con titoli a volte uguali, riprodurre gli stessi contenuti dei quattro volumetti pubblicati, legati alla squadra di calcio del Napoli nel libro Il resto della settimana, edito da Narizzoli nel febbraio 2015. Una condizione che, secondo l'Avvocato Giardino, andrebbe a pregiudicare la ripubblicazione delle Storie Azzurre prevista per l'anno nuovo.